Buongiorno ai videoascoltatori di Trieste Caffè, sono Angelo Lippi, coordinatore regionale di Ancora Italia. Mi trovo in Piazza della Libertà, in attesa della manifestazione di solidarietà al giornalista ingiustamente recluso Assange, recluso per dei suoi servizi giornalistici contro le malefatte dei governi cosiddetti democratici e non solo degli oligarchi della finanza internazionale. Come ci ricorda Assange, quindi non solo i regimi autoritari o fondamentalisti reprimono il pensiero libero, ma anche le cosiddette democrazie e anche i stati dove impera il pensiero unico neoliberista. Quindi siamo in una falsa democrazia, in un falso paese libero, sia in Italia che nei paesi occidentali, e lo abbiamo potuto notare anche nella recente pandemia pseudotale, dove chi non era d'accordo sulla vulgata imperante veniva represso, veniva censurato e veniva escluso. Quindi solidarietà a Assange da parte di Ancora Italia e Friuli Venezia Giulia e siamo con gli amici che ci hanno invitati a manifestare oggi in Piazza della Libertà. Grazie. 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 Grazie.